www.feyyaz.tv Ti piace? L'hai cucinato tu? Certo, no, Nina dai, l'ho comprato. Qui nel quartiere ormai è più facile trovare cibo esotico che una carbonara. Che poi non piace tanto neanche a me. Oh, ci ho provato. Ma tu, ci campi con la musica? No, facciamo tutti un altro lavoro. Io ad esempio insegno in una scuola media. Vabbè, adesso sto in malattia. Non mi potrei permettere neanche questa casa se non me l'avesse lasciata mio padre. Bella tappezzeria. Io non posso smettere. Nel nostro settore la malattia non è contemplata. E tanto che lo fai? Due, tre anni. Non si guadagna bene. Ti fa schifo? No, schifo no perché... Cioè, non capisco però... Io non capisco come si possa lavorare tutti i giorni e fare tutti i giorni le stesse cazzate. Ma che c'è da scusa Nina? C'è lavoro e lavoro. Ad esempio a me insegnare ai ragazzi piace. Mia mamma mi racconta sempre una storia. Dice che quando ero piccola andavamo al mare. Io andavo a fare il bagno. Quando uscivo dall'acqua tutta bagnata. Andavo sotto l'ombrellone. E lì mi toglievo il costumino bagnato. E poi tutta nuda attraversavo la spiaggia. Con tutte le persone che mi guardavano. Andavo in capina. E in capina mi mettevo il costumino pulito. E' finita la storia? Sì. 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 Sì.